Definire la linsonne significa parlare di un'esperienza di vita perché questa rivista artistica è nata dall'incontro proprio di noi quattro giovani trapanesi, quattro professionisti, quattro sensibilità diverse ed è il frutto della fusione di queste due anime, un'anima giornalistica e l'altra artistica. Quello che ne è venuto fuori è un esperimento editoriale, artistico, che è molto improntato sulla formula del giornalismo poetico, che del giornalismo ha la capacità di entrare nelle cose, di vivere e abitare il tempo e lo spazio in cui si è cercando di coglierne anche quelli che sono gli umori, i cambiamenti, le frenesie eccetera. Dell'arte ha la capacità, la libertà di espressione e la capacità di cogliere anche il senso intrinseco delle cose. Il progetto nutre in sé un'altra condizione particolare ed è la totale indipendenza da istituzioni, palazzi o governi senza andare contro o remare contro, ma semplicemente per appunto dimostrare come se con un desiderio ben innestato nel proprio animo le cose si possono realizzare. La produzione editoriale è quella dell'Associazione Culturale Spazionitico, che appunto è un'associazione che si occupa di produzione artistica e quindi insomma il messaggio che si vuole lanciare è quello di poter provare o tornare a credere le linguaggi espressivi dell'arte e che possano dare quello stimolo ad un principio di cambiamento che tanto desideriamo e tanto vogliamo.